Con la ripresa dell'anno scolastico dopo le festività natalizie entra nel vivo il progetto Scuole Sicuro, ovvero la campagna di monitoraggio e screening per la ricerca del Covid-19, lanciata dalla Regione con Anci, UPI, le aziende sanitarie locali e l'Agenzia regionale di sanità dopo un confronto con l'ufficio scolastico regionale e gli altri soggetti del cantiere scuola. La campagna consiste nella somministrazione di test rapidi a studenti e personale scolastico per intercettare il maggior numero possibile di casi di infezione, soprattutto asintomatici. Nelle immagini vedete i test effettuati nella scuola media Francesco Redi a Bagnarripoli, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Io ringrazio Luigi Salvatori, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, perché stanno svolgendo un lavoro molto capillare nelle scuole fiorentine. Il tracciamento è l'elemento essenziale per poter avere gli anticorpi alla crescita del contagio. Il poter verificare qual è la situazione fra i nostri ragazzi è l'elemento e la condizione fondamentale per poter tenere aperte le scuole e sappiamo come in questi giorni è aperto il dibattito sull'apertura delle scuole. I test diagnostici rapidi sono sicuramente in questo momento l'arma migliore a disposizione in attesa dei vaccini per combattere quantomeno rallentare la diffusione del coronavirus. Nel caso delle scuole poi sono molto importanti perché con i test diagnostici diamo il nostro contributo affinché la scuola riparta, riparta in sicurezza. Questo per tutta la comunità scolastica, per gli studenti, per il personale docente, per il personale ATA e per le famiglie. Nei mesi scorsi, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, sono stati effettuati oltre 9.000 test rapidi nelle scuole fiorentine con risultati confortanti in merito alla sicurezza negli istituti. Sono stati individuati soltanto 8 case di effettivo contagio, meno dell'1 per 1.000.